Che vi farò vedere a fine video, quindi riman... Oh, porca p***a! Ce ne posso fare! No, ma non è colpa, ma devo proprio... Allora, che vi farò vedere... Ma è una cazzo di farola semplice! Che vi farò vedere... Oh, Cristo! Non ce la posso fare! Oh, eccoci qua! Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Niki One, e oggi, in questo nuovo video, vi spiego un po' il motivo della mia mancanza. Allora, innanzitutto, perché non sono più usciti i video? Sono accaduti un paio di avvenimenti, il quale uno riguarda il lutto, un lutto in famiglia, abbastanza traumatico, e quindi sapete che funziona, si smutano moralmente, la perdita del caro, quindi è abbastanza pesante come situazione, e poi, quindi, da quello, si riprendono un sacco di scelte dopo, quando ci si ripiglia un po', quindi, è cambiato tutto uno status d'animo, ok? Abbiamo detto tutto, e quindi siamo ripartiti, voglio ripartire con un nuovo spirito, e abbiamo deciso, io... posso... posso... abbiamo deciso il mio amico di spostarci, ok? Cambiare location, per cambiare idee, per cambiare tutto, ok? Fai un bel cambiamentino, quindi vi invito a rimanere fino a finire il video, per scoprire una nuova location. Allora, cos'è cambiare? Senza allora. Poi, cos'è cambiare? Allora. Allora, soprattutto me stesso, quindi sapete tutti che dopo che succede, dopo che accade un lutto, si cambia, si cresce, quindi di conseguenza, anche come ho detto prima, il mio stato d'animo, è quello che poi non mi ha portato a fare video, quindi di conseguenza, rinchiudemi un attimo, me stesso, però poi ovviamente bisogna trovare la forza di interattarsi, quindi ci si diatta e si riparte, più poteri di prima ovviamente, con una nuova grinta. E poi cosa cambierà? Quindi dicono, nel canale, ovviamente tutto il canale, voglio cambiare soprattutto il format, il canale, i vari video, come verranno sfrutturati i video, l'uscita di video, la tempistica, ovviamente la qualità, e poi ci saranno dei progetti futuri, che comprenderanno anche voi, quindi per non perderveli, non perdere anche l'occasione di partecipare, vi invito a iscrivervi al canale, e attivare la campanellina. Bene, ora dopo tutta questa tristezza, non è cambiato un cazzo, sono sempre tutto quella di prima, solo che sono un po' più pelato di prima forse, un po' d'altro, e poi non è cambiato, e volevi! Bene, ora, dopo aver spezzato un po' la tensione, la tensione, ok, vi chiederete cos'è cambiato, ok, nella location, sinceramente, praticamente è un cazzo, eh Nico, non è cambiato un cazzo, aspetta, penso io, aspetta un secondo, perché qui, bisogna utilizzare un po' di magia, in queste case, minchia Nico, però la sedia può devi lasciarmi la cazzarola, oh, grazie, uh, bene, ok, come vedete, guardi, imprevisti di percorso, allora, vedete, la finestra che era qua, una volta in un vlog che avevo fatto, non c'è più, quindi, ufficietto, tattico, ok, oddio, ho colpito il microfono, come al solito, e scusate, guardo lì, ma io devo guardarla, allora, io, mi butterei a fare un bel tour panoramico, appena appena, giusto per dare una sbirciata, poi ovviamente ci saranno un sacco di cambiamenti, perché ci vorrà altra strumentazione, ovviamente, altri, pannelli fono assorbenti, tantissime cose ancora, che devono arrivare, perché poi, forse italiane, sbaglia anche le spedizioni, le rimanda, ok, vabbè, comunque non buttiamo giù, forse italiane, bene, ora direi che possiamo passare al tour, anche se è di pochi secondi, perché è piccolino, ma essenziale, oh, eccoci qua, vai, cambio in telecamera, perfetto, magari su per uno, allora ragazzi, questa sarà la nostra postazione, veramente la vi in generale, perché vi lascio uno spazio per vedere, siamo messi così, in questo modo, ok, qui, stai riacciando tutto il resto, qui c'è la postazione del mio icon, visto che siamo riusciti a stare insieme, invece di stare, no, non pensate mai, di riuscire ad avvicinarci, ecco, a fare i video, di quella sua postazione, tutto da migliorare, quando arriveranno, ovviamente, i paneli riconosamenti, e poi ragazzi, questo qua, per questa estate, eh, questo era il top, dal cielo, dove è arrivato, il nostro condistrattore, e poi basta, non c'è un altro, ecco qua, ok, sistemato un po' così, portate il mio strumentino, la chitarrina qua, e c'è un po' di rito, direi che come piccolo ufficio, ok, faccio più cari via le cartacce, ma cosa butti via le cartacce, il giorno dovremmo avere cartacce, ma direi che come ufficetto, ci siamo, questa è la postazione back, questa finirà davanti, ok, quindi, mettiamo qua davanti, e l'Alexa, la nostra assistente, che fa tutto, e ci interrompe i video, come la soltanto, giusto? grazie, ok, va bene, nel senso grazie, nel senso grazie al caso, allora ragazzi, questi qua sono i cambiamenti, che avevo fatto, quest'ultimo periodo, vi rinvito a iscrivervi al canale, e attivare la campanellina, per non perdervi, ovviamente i prossimi video, ora si parte da qua, da questi nuovi cambiamenti, ci vediamo, assolutamente, rimanete fino alla fine, quindi avete l'onore di, no, così non vi piace, che te lo posso dire, che vi farò vedere, a fine video, quindi, a fine video, quindi, oh porca p***a, ce lo posso fare, no, non è che, allora, che vi farò vedere, è una cazzo, vi farò la semplice, che vi farò vedere, oh Cristo, non ce lo posso fare, che vi farò vedere, adesso mi viene da ridere, fare di tutto, si riparte, con un nuovo spirito, più cazzo di di prima, e, cazzo ne so, è venuta così, che vi farò vedere, Grazie a tutti.